Musica Ritorno qui a Ragusa dopo un po' di tempo avendo avuto dei passati politici che mi hanno consentito di amare profondamente questa città e questa provincia e vengo nella qualità di vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati un incarico che mi ha dato la possibilità concreta non soltanto di vivere la vita politica a Montecitorio da leghista ma anche nello stesso tempo di spendermi sul territorio e di essere concretamente un punto di riferimento del mio partito del partito di Matteo Salvini in tutta la Sicilia e in particolare anche qui a Ragusa una provincia che certamente vede la Lega non particolarmente presente perché ovviamente essendo un partito nuovo pian piano cerca di muovere i suoi passi per farsi conoscere con i rappresentanti più idoni che evidentemente possono rappresentarle sul territorio la Lega come dice sempre Matteo Salvini è il partito del buonsenso noi non abbiamo ideologie, noi abbiamo rivoluzioni che vogliamo fare costantemente e quotidianamente utilizzando il buonsenso abbiamo una visione del mondo che vede una nuova Europa per esempio non più attrazione franco-tedesca ma che vede l'Italia di nuovo protagonista un'Italia che diciamo le cose come stanno negli ultimi 10-15 anni ha perso posizioni in maniera inenarrabbile e che oggi è considerata quasi un falinino di codo l'Italia che è a tutti gli effetti la culla della civiltà si è ritrovata oggi a essere penalizzata Matteo Salvini va in Europa con un progetto politico ben chiaro, cambiare questo connotato, cambiare anche le alleanze non più partito socialista, partito popolare nel modo in cui abbiamo visto ma con la nuova visione una visione che vede il popolo al centro di tutto ecco perché stiamo proponendo i nostri candidati tutti giovani, tutti freschi fra questi sicuramente Annalisa Tardino che è avvocato, che viene fuori da un'esperienza straordinaria perché è stata candidata sindaco a Licata non più tardi di un anno fa ha preso, pensate, da neofita il 20% dei voti allora vuol dire che se si prendono il 20% dei voti a Licata si possono prendere tranquillamente anche qui a Ragusa ecco perché noi puntiamo tanto su questo volto giovane, fresco capace di portare innovazione, di portare competenze, di essere gradevole di essere mamma, di essere moglie, di essere capace anche di portare in Europa una voce nuova questa provincia non ha candidature importanti, anzi forse non ne ha per niente in Europa per cui siamo convinti che lei possa rappresentare pienamente questo territorio essendo di Licata è noto che la fascia sud, quella che appunto va da Licata fino a tutto il Ragusano possa essere pienamente rappresentato questo volto giovane fresco che è appunto Annalisa Tardino ricordatevelo e memorizzatelo perché io penso che nei prossimi mesi ne sentirete parlare tanto di lei essendo stata voluta personalmente da Matteo Salvini in lista La spinta motivazionale di queste competizioni elettorali ma anche delle mie precedenti come ha già detto l'onorevole Pagano è quella di cercare di dare risposte al territorio e risposte ai cittadini oggi non si può parlare più di destra e sinistra quando mi chiedono la motivazione per la quale ho intrapreso questo percorso politico da avvocato che esercita da quasi 13 anni dico la voglia di fare qualcosa per la nostra gente la Lega è il partito che è l'unico partito che in pochissimi mesi di governo è riuscito a dare delle risposte ai cittadini delle risposte ai cittadini che non si possono classificare con le vecchie categorie di destra e sinistra e mi riferisco per esempio alla quota 100 che è riuscito a svincolare e a portare al pensionamento tantissimi cittadini italiani che erano imbrigliati dalla legge Fornero mi riferisco per esempio al decreto dignità che ha cercato seppur limitatamente di dare una continuità lavorativa a tanti giovani precari ora dico limitatamente perché il nostro Stato ha bisogno di riacquistare la propria sovranità e di poter decidere le proprie politiche economiche e questo si può fare solamente votando Lega in Europa perché dall'Europa che purtroppo oggi siamo imbrigliati nelle nostre scelte decisionali ora questo voto per l'europe non è il voto che abbiamo dato forse in maniera inconsciente, inconsapevole solo o forse per amicizia o per conoscenza nel passato oggi il voto all'europeo è un voto importante perché il popolo italiano deve riprendere quella dignità che ha perso in vent'anni di un'Europa non dei popoli così come è stata creata e come è stata voluta dai padri costituenti ma un'Europa che è diventata un'Europa delle banche, delle finanze un'Europa che non riesce più a garantire la personalità di ciascun popolo e che antepone gli interessi e la finanza a quella dei cittadini ora questa è la battaglia che vogliamo condurre cercare di dare all'Italia, come diceva l'onorevole Pagano la dignità che l'Italia merita come culla del Mediterraneo come stato in cui è nata la civiltà e soprattutto come stato che riuscirà a garantire nuovamente i propri cittadini questo è il mio impegno personale portare la voce degli italiani in Europa insieme a tutti i parlamentari della Lega che sono scelti per le proprie competenze per la propria personalità e per la grinta con la quale portano avanti il proprio programma politico